Parliamo di carolibri. Come ogni inizio di anno scolastico le famiglie italiane con figli in età scolare sopportano una gabella che alle volte è troppo pesante per il bilancio familiare. Libri usati, libri riciclati e quant'altro non sempre riescono ad ammortizzare la spesa. I continui aggiornamenti di testo alle volte rendono questo escamotage assolutamente inefficace. Ma ora per le famiglie marchigiane e quindi anche per quelle fanese che ne abbiano i requisiti ci sono fondi a disposizione per abbattere questa pesante voce di capitolo nell'economia familiare. La Regione i giorni scorsi ha fatto il decreto 171 che definisce le procedure gestionali per la fornitura di libri gratuiti e semi gratuiti per gli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. I requisiti per poter avere questo beneficio sono essere residenti nel comune di Fano, appartenere a una famiglia il cui indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE per facilità, riferito ai redditi 2014 non sia superiore a 10.632,94 euro e presentare ovviamente nei tempi stabiliti, cioè entro il 26 ottobre, la domanda all'ufficio di ritorno studio dei servizi educativi. La domanda può essere compilata direttamente presso questo ufficio dei servizi educativi del comune di Fano in via Vitruvio numero 7 oppure il modulo può essere stampato dal sito istituzionale www.comune.fano.pu.it e inviato via fax al 0721 88 87 300 oppure per chi l'avesse essere inviato con una posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica che è comune.fano servizi educativi chiocciola emarche.it Ricordo, perché questo è importante, che la domanda deve pervenire all'ufficio entro e non oltre il 26 ottobre.